Buongiorno ragazzi, inizia un'altra giornata e ovviamente vi portiamo insieme a noi. Ci sono con i teboli su. Le andate su. Adesso parlano. E qui dove chiede? E qui dove chiede? Che andando sta? che potrei dare all'antico vinaio? tipo? tipo quanto? assolutamente condivido ragazzi, anche 9 nessuna magra non c'è niente non c'è nulla non c'è nulla no 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 Ciao, bello! Ciao, bello! E ora? Ragazzi, dice che ci ha scritto cioccolato, cocco Beviti il bubble tea Sì, perfetto C'è lo sterlato Quanto sei bella rocci E' già fatto Non lo mettermi Non lo mettermi Ah, c'è da Ma c'è da Ma c'è da Tiene all'assotto Sì, ne, ne Devo fare un bel tic-tic Ma c'è da Ma c'è da C'è da Ma 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 c'è da E allora perché mi ha detto Veloce veloce Comunque Cinque per sei Ah, e allora Ora che lo sappiamo Campiamo meglio E' stonanata E' stonanata E' stonanata Ma c'è da Ma c'è da Ma c'è da Una castella Bellissima ragazzi Guardate E' il sirenetto spiaggiato Come c'è da sotto Sirenetto Sei stanco? No Mamma che bello questo Buongiorno Todessi prima No, questo qua con il mulino Non l'ho visto Ho visto quello là sotto Todessi prima C'è da sotto Chi rirà Ti chiamiamo Bellissimo Bellissimo Ehm Come si chiama questo? Lian Klebb Come si chiama? No, noi abbiamo chiamato No, non l'abbiamo chiamato qua Bellissimo Bellissimo questo ragazzi Col mulinello Ma piange ce ne sono ancora? Buongiorno Qui c'è Qui c'è Non è così facile, ma è così facile. No. Scusate voi, ti vuoi fare per le piazze? Mi vuoi vedere le piazze. La piazza di Spagna, anche il muciolato. E la piazza di Spagna, anche il muciolo di Spagna. Non so, non so, non so, non so, non so. E la piazza di Spagna, anche il nostro canale, è stato per l'armi. E la piazza di Spagna, anche il nostro canale. Grazie a tutti. 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 No, quattro dalle. Eh, dove vuoi. No, quattro dalle. 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 Quattro dalle. No, 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 quattro dalle. 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 Ragazzi, non lo ascoltate che è un po' rozzo. Ma le luci ce le hanno messe e non neanche le aprono. Guarda tu. Ma... Sì, va qua. Ancora, ragazzi. Si diverte. Ma che stai facendo? Quattro dalle. Telefanschini, giorgolosi. Ragazzi.